Sì, anche noi. Tento, ecce la posso. Facciamo un applauso. Se arrivi più facile per me di dirlo in francese, ma provo di parlare italiano. Può fare anche a metà lo stanno. Allora, siamo felici, va bene così? Siamo felici di accoglierevi oggi. È la prima volta da anni che ospitiamo amici di Vogue Resi. Per noi è un vero, un po' di grande gioia. Speriamo che è la prima volta da lontani, ma non l'ultima. La prossima volta sarebbe meglio venire per 4-5 giorni, così si può fare cose insieme. Fare un po' di turismo, fare... Faremo un po' questa volta. E' meglio la prossima volta. Grazie mille, grazie. E adesso, buon appetito. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille, grazie mille.